Allora, prossimo brano, ascolteremo il corale finale dalla sinfonia numero 3 di Gustav Mahler. Sinfonia composta da Mahler tra il 1893 e il 1896. È davvero una sinfonia monumentale, è articolata in sei movimenti, della durata complessiva di oltre un'ora e mezza. Noi questa sera ascolteremo il corale finale tratto dall'ultimo movimento, quindi un adagio dal carattere lirico, commosso, quasi volesse suggerire un ritorno a quel mondo naturale, alla vita felice. Senza ipocresie, senza menzogne, tra l'altro proprio la vita a cui ha aspirato Mahler per tutta la sua vita. Maestro, prego. Grazie. 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 Grazie.